Va bene, accettiamo la proposta di rinvio in commissione del Presidente, però il Presidente devo dire che è veramente uno spirituosone e mi ha fatto molto ridere. Non si vede perché sto ridendo internamente, sì sì, convintamente all'interno, perché si vede chiaramente il metro di misura del Presidente Totti, veramente due pesi e due misure. Perché vedete, ora si è detto non vorrei impegnarmi per i lupi che ululano oppure per intervenire presso il governo affinché agisca contro i marziani quando verranno qui ad invaderci, ma lo ha fatto poco fa. Cioè con una mozione della maggioranza in realtà lei si è impegnato più o meno sui marziani che sbarcheranno qui, perché lei andrà in Crimea o andrà in Russia ad agire come? Cioè no no no, per l'amor di Dio, cioè le impegnative, le impegnative, se vogliamo giudicarle tutte, cioè sono, sono, eh? Eh no ma è già nato in Russia, si vede che è un pochino più abbronzato perché là c'è una temperatura strana, il sole. No però nel senso, nel senso, nel senso, si stanno facendo due pesi e due misure, le impegnative che si è preso prima con la mozione approvata dalla maggioranza, è approvata anche da noi sulla Russia e sulla Crimea, hanno la stessa portata dei marziani che verranno ad invadere l'Italia. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto a Barbagallo di controllare il flusso di lavoro su quella mozione. Ora portiamo invece questa, la nostra, in commissione perché non ci sono modalità di agire e quindi la Giunta non può intervenire direttamente su una cosa così assurda come i pedaggi dell'autostrada Liguri. E invece, ripeto, sulla Crimea e sulla Russia si intende intervenire in modo concreto e diretto. Probabilmente, come è già stato fatto, partirà con il colbacco, andrà su con il colbacco d'ordinanza della regione Liguria e vedrà di intervenire presso Putin, presso tutta l'assemblea russa, in modo da raggiungere i risultati e sbloccare tutti i finanziamenti e sbloccare tutta la situazione economica della Russia. Con la fascia, ovviamente, con la fascia che è stata approvata. Scusi, sono ben capito, però è favorevole di Dio. Cosa possiamo fare? Siccome ci teniamo a questo ordine del giorno, lo portiamo in commissione, però mi permetta di sottolineare che si fanno due pese e due misure. La nostra è assurda, quella invece della maggioranza è in linea con le impegnative che si può prendere questa giunta. Quindi, domani vorrò vedere, lo ripeto ancora una volta, il Presidente Totti, col colbacco e la fascia della regione Liguria, andare da Putin e risolvere la questione della Crimea. E Barbagallo, mi raccomando, controlliamo in commissione quinta che ciò avvenga. Grazie.